Il termo chiude l'anno nel modo peggiore, battuto 1-0 dal Bisceglie e venendo così raggiunta al terzo posto in classifica. A decidere un gol di Musso nella ripresa, nel momento migliore dei Biancorossi, che però giocano una gara opaca sulla scia dell'ultimo periodo. Paci sceglie Viero per spostare Santoro più avanti a fare Lilari, acciaccato in panchina ma che entrerà poi nel corso della ripresa. Mung invece vince il ballottaggio con Bombaggi e sarà tra i più attivi. Il Bisceglie parte con le intenzioni migliori. All'ottavo Makotà gira per l'inserimento di Rocco, che trova la deviazione provvidenziale di Diakite nel tentativo in porta. Dagli sviluppi del corner, Cittadino, dalla distanza, impegna Lewandowski, che si salva in qualche modo. Il teramo avrà le occasioni più interessanti nel primo tempo da calcio d'angolo. Al diciassettesimo ci prova Arrigone a girare verso la porta. Al quarantesimo invece sarà Diakite a trovarsi tutto solo nei pressi del secondo palo, indirezzando però alto. In mezzo c'è ancora Lewandowski a salvare il teramo chiudendo al ventiduesimo sul Rocco, il migliore in campo lanciato a rete. Al trentaduesimo episodio da Moviola. Cittadino batte una punizione che Vona gira in qualche modo verso la porta. Per il direttore di gara è calcio di rigore per il Bisceglie e per fallo di mano di Santoro. Ma il primo assistente a segnalare che la mano in questione è proprio del difensore di casa, spingendo dunque l'arbitro a tornare sui suoi passi. Ilari entra in campo dopo dieci minuti nella ripresa, ma sarà una seconda frazione che tarda ad accendersi. Lo fa il teramo dopo gli inserimenti di Bombaggi e Gerbi, proprio con Bombaggi che riceve da Ilari e davanti al Russo manda a lato l'occasione migliore del teramo. Due minuti più tardi al ventisettesimo è Arrigone ad impegnare Russo, molto bravo a leggere i rimbalzi del pallone ed allontanare il pericolo. Bombaggi ha un'altra chance poco dopo per portare avanti il teramo, ma la beffa per i biancolossi dietro l'angolo. Rocco illumina il 34esimo per Musso, entrato al posto di Makotà e l'attaccante infila Lewandowski per quello che sarà il gol partita. Il teramo incassa e non reagisce, avendo l'unica palla per pareggiare solo nel recupero, quando Diakite, dagli sviluppi di un angolo, manda incredibilmente alto sulla traversa. Per il Bisciglia è un successo che mancava da più di due mesi e dopo cinque K.O. consecutivi. Per il teramo invece è la terza sconfitta stagionale che arriva dopo i quattro pareggi consecutivi e il K.O. di Terli. Si riparte il 10 gennaio con lo scontro diretto in casa contro l'Avellino.